Buongiorno a tutti, ciao, sono Filippo Gresini e è con molto piacere che sono qui oggi al Forum Studenti Villavione 2019, dove si parla della prospettiva degli Stati Uniti e Europa, se possono essere un incubo, un'utopia o un sogno realizzato. Io sono qui, penso, per ascoltare gli interventi degli altri relatori e degli studenti, ma anche per portare la mia esperienza di tentativo di costruire un soggetto politico per l'Europa, questa esperienza che ho fatto con Volt, soprattutto nella prima parte di quest'anno, è un'esperienza che mi fa piacere portare qui a Villavigoni a titolo personale, perché credo che ci sia bisogno di più politica in Europa e di più politica vuol dire più coinvolgimento e più voce per il cittadino. Siamo ancora in una fase morionale, è una sfida grande e difficile quella di costruire delle infrastrutture, dei meccanismi per dare voce ai cittadini dell'Unione Europea, ma momenti come questo sono molto importanti per riflettere, per discutere su come fare e se continuiamo a discutere in questo modo, chissà che questa Europa più unita possa davvero essere un sogno, non un incubo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.